Lui guarda il risonato, la camicia arriva No, 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 cominciare a distribuire le colpe, forza, dicci un pochino te Come la vedi? La vedo bene, la vedo bene perché in due mesi da zero abbiamo preso il 2% dei voti quindi è una bellissima esperienza, no la nostra? Certo Perché senza soldi, senza mezzi, senza energie senza energie abbiamo tante senza il potere della rete sociale fatta dai partiti senza anche non conoscere come esperienza Ci siamo fatti le esperienze, ci siamo fatti tante cose e il 2% è un primo scavino, è un primo soffro saremo più forti più avanti l'importante è riuscire a mettere questo Da ora è tutto in discesa Tutto Se tu pensi siamo quasi quanto l'Udc o altri partiti di questo tipo siamo a posto siamo quattro gatti Grande